Udienza di convalida da remoto questa mattina per il fermo di Amleto Petrosemolo, 70 anni, che si trova nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano. Petrosemolo accusato di omicidio volontario con l'aggravante di futili motivi. Domenica mattina Petrosemolo, in via Cipollone, ha sparato 13 colpi dalla sua beretta calibro 9 colpendo mortalmente alla schiena con 5 colpi Francesco De Florio De Grandis, 72enne, che era appena uscito per recarsi a messa. De Grandis, a tutti noto come persona mite e tranquilla. Al termine dell'udienza abbiamo raggiunto l'avvocato di Petrosemolo, Alessandra Cappa. Si è appena conclusa in remoto l'udienza di convalida del fermo per la decisione sulla richiesta della custodia cautelare con il GIP Massimo Canosa e il PM Serena Rossi. Avvocato, che cosa si è deciso? La decisione è attesa, il giudice la renderà nei tempi dovuti. Quindi per il momento non si è deciso niente. Ovviamente il PM ha fatto le sue richieste. Io ho semplicemente chiesto al giudice di valutare sin da questa fase, ovviamente al limitato fine della compatibilità della detenzione del mio assistito, di valutare taluni elementi sul suo stato psicologico che io ritengo siano già emersi. Ma lei chiederà una perizia psichiatrica? Guardi, io adesso ritengo assolutamente prematuro rispondere a questa domanda. Parlo diciamo di ciò che ho fatto, quindi non penso di dover anticipare, prima ovviamente di fare invece una così formale richiesta all'autorità giudiziaria. Io per il momento, al limitato fine, ripeto, dell'applicazione di una misura cautelare, ho chiesto al GIP la valutazione di questi elementi e rimango in attesa di questa risposta. Valuterò poi il da farsi in base al provvedimento che il GIP renderà. Lei ha incontrato in carcere ieri il suo assistito? Io l'ho incontrato per modo di dire, nel senso che in questo momento lui è in isolamento, Covid, questo è previsto diciamo dal regolamento in ingresso e quindi l'ho sentito con una videochiamata. Come l'ha trovato? Spaisato, traumatizzato, ovviamente l'esperienza carceraria lo è per tutti, e quindi spaisato per quel che, ripeto, si può valutare con una telefonata, con mascherine e via discorrendo. Quindi, insomma, penso che una migliore valutazione io l'avrò la settimana prossima all'esito di un contatto personale con il mio assistito. Grazie.